A pochi giorni dall'inizio di Temptation Island arriva la segnalazione che stupisce tutti. Centra Ilari Blasi. Il 27 giugno inizierà la nuova stagione di Temptation Island condotta sempre dall'ex GFino Filippo Bisciglia. Memmano, sulle pagine ufficiali del programma, stanno comparendo i video di presentazione delle coppie che metteranno alla prova il loro amore quest'anno. È arrivata però una segnalazione davvero singolare e insolita per il programma e centra un personaggio VIP molto famoso, la conduttrice ed ex moglie di Francesco Totti, Ilari Blasi. Che connessione c'è fra lei e il reality Temptation Island? Scopriamolo insieme. Il legame fra Ilari Blasi e una coppia di Temptation Island. Fra le varie coppie che parteciperanno a Temptation Island ci sono anche Martina e Raul. Ad attirare l'attenzione dei fan del programma non è stato solo il motivo per cui parteciperanno, ma anche una segnalazione che è stata fatta subito dopo la pubblicazione del loro video di presentazione. Martina ha 26 anni. È di Roma e sta da 10 mesi con il suo fidanzato Raul. Per la ragazza, lui è troppo geloso e possessivo. Ogni volta che le chiede di andare a convivere, lei tentenna per questo motivo. In passato, due anni fa, la coppia aveva rotto proprio per questo problema. Raul si dichiara solo molto innamorato e voglioso di trascorrere tanto tempo con lei. Martina lamenta però che, per la troppa gelosia e possessività del fidanzato, non possa vivere tranquillamente la sua vita. Oltre a questo problema che la coppia sta affrontando e che ha scatenato non pochi commenti sui social, a far discutere è stata anche la segnalazione di Alessandro Rosica, investigatore social sul web, esperto di gossip, che ha rivelato nelle sue storie Instagram di essere venuto a conoscenza che Raul abbia trascorso le vacanze con Ilari Blasi. Che strano, Ilari ha passato le vacanze con Raul e amici, la tv e amici o parenti di, sempre detto, ha scritto sui social. Già qualche giorno fa, un altro esperto di gossip, Lorenzo Pugnaloni, aveva postato uno screen dei follower di Raul e appariva niente di meno che la famosa Ilari Blasi. Il pubblico ha fatto notare che Raul e Martina sono due TikToker abbastanza famosi e che hanno già oltre 10.000 follower su Instagram. Questo potrebbe giustificare il perché abbiano delle conoscenze VIP. Fra l'altro, Martina lavora presso il, Ristorante da Dante, un locale molto conosciuto della capitale e frequentato anche da tanti personaggi dello spettacolo. Tutto questo potrebbe giustificare il perché la coppia conosca Ilari Blasi. Insomma, la nuova stagione di Temptation Island non è ancora cominciata ma già promette scintille a partire da queste prime segnalazioni sulle coppie protagoniste.